E' la mascotte di Sanremo giovani, perché è la più piccola di tutte, si chiama Shari Ciao Shari Ciao a tutti, sono Shari, ho 17 anni, vengo da Udine 17 anni, vieni da Udine e sei appunto la mascotte Ma tu hai cominciato a suonare da piccolissima? Sì, sì, a 8 anni ho già scritto la prima canzone Ah ci picchia Sì, è stata da sempre una passione, all'inizio era un gioco in realtà Però poi le emozioni che provavo ho capito che non erano normali e quindi è la mia vita Senti, tu hai anche conosciuto Elisa, grande cantante che tutti conosciamo Sì, siamo nati entrambi a Monfalcone, quindi l'ho conosciuta Con paesane, diciamo così Esatto E poi sei stata anche a cena con lei, che consiglio ti ha dato, quello che ti ricorda di più? Beh, mi ha detto di crearmi una personalità perché comunque ero ancora piccola E non sapevo neanche qual era il mio posto nel mondo E mi ha detto di credere in qualcosa e andarci fino in fondo Allora c'è un video C'è un video per te e di persona a cui sei molto legato, vediamolo insieme Grazie Shari per questa canzone Per noi significa tanto Buon carlupo Shari Chi sono? Sono i genitori di una mia amica alla quale ho dedicato la canzone che chiederò oggi Una canzone, una amica che si chiama Elisa che non c'è più Sì, esatto E ti ha ispirato questa canzone Vieni Grazie Grazie